Forse la conosci, creata nel 98 da 12 studenti universitari. L'orchestra da Vienna è diventata famosa in tutto il mondo. La particolarità è evidente, gli strumenti sono fatti con delle verdure. E ogni sua performance richiede circa 70 kg di verdure da acquistare rigorosamente nel luogo dove si terrà il concerto e circa 3 ore di lavoro per trasformarli nello strumento musicale. E' difficile da etichettare in un genere musicale, anche perché spazia completamente, fino ad arrivare a una sorta di elettronica. A tratti è anche tecno. E quando finisce il concerto si fa una bella zuppa, è vero eh, con gli scarti e se li mangiano.